Che cosa è l'Evangelo? Una definizione chiara dell'Evangelo ci viene data da Paolo, l'Apostolo delle Genti, nella sua prima lettera ai Corinzi, capitolo 15, versi da 1 a 4. Fratelli, io vi rammento l'Evangelo che vi ho annunziato, che voi ancora avete ricevuto, nel quale ancora state saldi e mediante il quale siete salvati, seppur lo ritenete quale ve l'ho annunziato. A meno che non abbiate creduto in vano, poiché io vi ho prima di tutto trasmesso, come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò il terzo giorno, secondo le scritture. Questo è l'Evangelo, cioè la definita dichiarazione del fatto che Gesù Cristo è morto per i nostri peccati, è risorto e vive nella gloria. È una dichiarazione di vittoria, non una vittoria generica, ma un fatto tanto vivo ed attuale che deve essere non soltanto creduto come un evento storico accaduto secoli fa, ma deve essere ricevuto. Forse è necessario chiarire che il termine credere nell'Evangelo è sinonimo di ricevere. L'Apostolo Giovanni nel suo Vangelo scrive, Gesù è venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto, ma tutti quelli che lo hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figliuoli di Dio. Giovanni 1, versi 1 a 12. Credere e dunque ricevere. Non crediamo nel vero senso biblico del termine fino a quando non riceviamo Gesù Cristo. Lo scrittore dell'Epistola agli ebrei, un libro del Nuovo Testamento, descrive questa esperienza come l'aver, fede per salvare l'anima, ebrei 10, verso 39. La salvezza eterna dell'anima non è il risultato di un'accettazione mentale di alcune verità, ma è un'esperienza del cuore. La salvezza dell'anima non è il risultato di istruzione religiosa, ma è l'esperienza di una nascita interiore. Gesù Cristo, il Divino Salvatore, entra nella vita interiore dell'uomo per la potenza dello Spirito Santo. Ecco, io sto alla porta e busso, se alcuna ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed è lì con me. Apocalisse 3, verso 20.